ciao buongiorno non mi vedrete oggi però ci sono mi serviva fare un video veloce veloce perché sto facendo una pita che volevo farvi vedere una pita a chiocciola poi vi scriverò la ricetta allora se ci assiste il tempo prima che arrivano gli altri e sentite le urla degli affamati facciamo una torta a chiocciola come si fa la torta a chiocciola stendiamo la pasta a filo stendiamo la pasta a filo mettiamo il ripieno che abbiamo intorno poi allora poi cominciamo ad arrotolare così mano il che sta tenendo il cellulare sta mettiamo poco poco dico poco poco di là poi vi dirò tutti gli ingredienti è una torta sorpresa via e per farvi vedere come si fa una una chiocciola una chiocciola un po più grande qua l'abbiamo sporcata un po di dell'amido però vabbè tiriamo un pochettino tiriamo un pochettino e giriamo tiriamo e giriamo le mani ce la stai facendo stanno arrivando gli altri adesso sentirete anche le voci io ho fame ma tanto io adesso chiudo la diretta e via allora dopo che abbiamo l'abbiamo raccolta così che facciamo la apriamo qua e continuiamo a ad arrotolarla eccola qui da una parte la tagliamo la sia rotola ciao 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 siamo in diretta ciao e la mettiamo nella teglia e vi saluto ciao 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 ciao